Sì, effettivamente è sicuramente una gran bella soddisfazione, i nostri piccoli sacrifici che facciamo per questa magnifica squadra li facciamo con grossa soddisfazione perché ci dà veramente dei risultati stupendi, ci dà un'immagine alla città, oltre che per quanto ci riguarda un bel ritorno pubblicitario per quanto riguarda il nostro marchio, quindi siamo ampiamente soddisfatti di questo e ci auguriamo di andare avanti sempre così, più a lungo possibile. Ci auguriamo che andando a fare queste finali della Coppa Italia, anche quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto un discreto risultato, quest'anno speriamo di fare meglio, di riuscire magari a vincere la Coppa Italia, saremo più che felici insomma.